Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Polonia, per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e il Vivio 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Arriviamo in FIPI di rallentamenti per traffico all'altezza di Firenze Scandici in direzione ingresso città. Uno sguardo al traffico ferroviario, informiamo che le biglietterie di Pescia e Monte Catini Centro, quest'oggi, sono chiuse al pubblico. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tramvia, troviamo restringimenti fino a fine mese per lavori in via Gordigiani, via Buonsignori e modifiche all'incrocio tra il controviale Strozzi e via Ridolfi. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie!